Con l'anticipo Pescara-Bologna si apre la terza giornata del campionato di calcio di Serie B. Stasera gli abruzzesi cercano i primi punti in casa dopo l'1-1 di Terni. Identica situazione per i felsinei che in casa hanno rischiato il KFA o 7 giorni fa contro l'Entella. Intanto mercoledì si è disputato il recupero della prima giornata Vicenza-Latina. I padroni di casa, ammessi come ventipresima squadra in cadetteria, hanno pareggiato per 0-0.